ciao a tutti i video amatori e le video amatrici di senza fissa dimora benvenuti in questo nuovo video oggi volevo parlare di un argomento molto delicato e lo volevo affrontare insieme a voi in una visione diciamo diversa da una prospettiva diversa non pretendo assolutamente di avere ragione è una discussione che secondo me va fatta perché siamo in un periodo storico che manifestare c'è chi lo vive appunto come un'esigenza c'è chi lo vive come un obbligo c'è chi lo vive come un insulto c'è chi lo vive come una totale inutilità e qui con voi volevo appunto analizzare un po meglio quelli che sono per me degli aspetti fondamentali della nostra società e dell'approccio che abbiamo a una manifestazione collettiva come quella ad esempio che si stanno verificando in francia che sono che coinvolgono milioni di cittadini nonostante che se ne dica che le cifre sono molto più basse ma le evidenze ci sono ovunque quando quando c'è la testimonianza diretta non c'è telegiornale che tenga e non c'è media che tenga alla controinformazione che quella che stanno veramente facendo i media da forse da un anno e mezzo forse da sempre con voi volevo farvi alcune domande cercare forse una risposta o altrettanto potete cercarla voi dentro di voi o fuori nel vostro nel vostro entourage nelle vostre persone che avete vicino la vostra famiglia cercare la risposta ad alcune di queste domande secondo me quando si manifesta c'è comunque la volontà e la ricerca del colpevole c'è una certa sudditanza psicologica della massa che va in piazza a manifestare contro il governo contro il presidente contro un ministro contro una legge ma comunque se possiamo mettere insieme questi pezzi va a protestare contro il sistema sistema stesso che gestisce la protesta in quanto a volte invia forze dell'ordine o comunque cerca in un modo in un altro di gestire e di controllare la massa con violenza o no indipendentemente da ciò c'è la volontà da parte di chi è manovrato di sovvertire il sistema usando gli stessi mezzi per me si cerca un po il cattivo di turno si cerca un po il colpevole c'è sempre questa scaricare la responsabilità sugli altri e mai vedere veramente quali armi abbiamo noi a nostro favore oltre a manifestare un sintomo un segnale che manifestare serve a poco o nulla è che subito dopo la manifestazione molti video che escono molti articoli di giornali che escono anche soprattutto in media non controllati quindi non ufficiali aprono con dei titoli abbiamo vinto stiamo vincendo il sistema è fallito il sistema è morto questa metodologia che da un lato può anche essere condivisibile ma da un altro lato bisogna capire veramente se dopo un anno e mezzo chi ha vinto se ha vinto e come ha vinto io andrei molto cauto con le persone che si auto proclamano vincitori vincitrici che si auto proclamano difensori dei diritti che si auto proclamano gesti gestionari di un di un controsistema perché fino che noi diamo le armi come io ho fatto in alcuni video cerco di dare le armi per vincere la battaglia per vincere la guerra un conto è dare le armi e responsabilizzare le persone singole un conto è auto proclamarsi vincitore vi faccio un esempio molto francese che che sono i gilet jaunt i gilet gialli io credo che abbiano manifestato per un centinaio di sabati quindi hanno sorpassato i due anni comunque di manifestazioni a oltranza cioè tutti i sabati scendevano in piazza e tutti i sabati manifestavano contro il governo la domanda finale dopo due anni è hanno vinto la riforma delle pensioni che era il primo pilastro contro il quale si muoveva il movimento di gilet jaunt e l'aumento del carburante che era l'altro pilastro si sono verificati in ambito i casi quindi hanno vinto ha contato qualcosa andare in piazza ora una delle risposte plausibili che forse anche la più intelligente è che sicuramente andare in piazza fa bene a noi stessi cioè non cambia niente a livello sistemico non cambia niente politicamente ma fa bene a noi stessi ci mette in comunicazione con per creare gruppi e per creare movimenti alternativi e qui vengo al punto della situazione la cosa da fare la cosa che è apprezzata è creare un sistema diverso non è adeguarsi al sistema o opporsi al sistema cioè creare il proprio sistema un esempio che è successo pochi giorni fa a parigi siccome il pass sanitario qui è obbligatorio anche nelle terrasse dei ristoranti moltissimi giovani hanno montato tavoli nelle piazze hanno montato le loro terrasse le hanno chiamate terrasse selvagge e hanno distribuito da mangiare da bere a famiglie hanno festeggiato alcol con tutto quello che volevano nelle piazze con le loro sedie hanno portato ognuno qualcosa hanno montato queste terrasse selvagge questo è un esempio di come le persone che hanno organizzato non si sono poste il problema di andare in piazza con un cartello con scritto macron non ti vogliamo non accettiamo non va bene lasciateci stare bla 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 hanno fatto e questo fa la differenza sotto tutti gli aspetti perché se ognuno facesse così se ognuno avesse un'idea o anche se ognuno aderisse all'idea di qualche di un altro però di fare e non dire questa è la differenza sostanziale tra andare in piazza o creare la propria realtà perché io credo fondamentalmente che nessuno di noi abbia bisogno di sapere se uccidere è bene o male se violentare una donna è un bene o male è giusto o è sbagliato cioè tutti tutti abbiamo le armi mentali abbiamo la conoscenza sufficiente per distinguere il giusto dello sbagliato per questo fondamentalmente non c'è bisogno di una legge la legge c'è per un quieto vivere comune per una diciamo un'esigenza di passaggio ma non dovrebbe essere legiferato tutto dovrebbe essere il contrario dovrebbe essere legiferato quasi nulla anche perché quando andate in piazza è come se voi vi poneste la domanda il primo ministro è a conoscenza del dissenso cioè secondo voi quando uno di questi personaggi qualunque fa una legge liberticida ai livelli delle ultime leggi che sono state provate poche settimane fa secondo voi è a conoscenza della vostra opinione oppure no secondo voi sa che voi non l'accettate non l'accetterete volentieri oppure no è chiaro che lo sa è chiarissimo altrimenti non farebbe la legge altrimenti non farebbe l'obbligo perciò perciò sapendolo che cosa conta a fargli sapere che voi non siete d'accordo che cosa conta a fargli sapere che voi siete milioni che non siete d'accordo è una cosa discutibile dal lato umano dal lato che ci unisce che ci dà forza che a noi stessi fa sì che noi non pensiamo di essere soli e questo sono d'accordissimo con voi ma l'utilità al sistema l'utilità vera e propria non c'è voi potete fare la stessa cosa in compagnia della vostra famiglia potete fare la stessa cosa devo con i vostri amici con i gruppi con le persone che siete a contatto che capite che c'è una sintonia tra il vostro pensiero è quello di altri questo non toglie io non dico che sia sbagliato manifestare sto solo facendo una riflessione un po 360 gradi per farvi capire che entrare in un certo sistema entrare in un certo meccanismo molte volte preclude che voi possiate cambiare dall'interno c'è già chi politicamente ci ha provato e l'ha detto noi entreremo noi apriremo la scatola di sardine noi distruggeremo il sistema bisogna entrare dentro l'europa per cambiarla tutte queste balle di propaganda tutti questi slogan che si sono arrivati solo degli slogan anzi molti di questi qui sono i peggiori in assoluto sono quelli che ci hanno veramente marciato sopra questa situazione non dico tutti non generalizzo però faccio solo per prendere un esempio che è abbastanza chiaro che non è così come ce la vogliono vendere bisogna diffidare di chi parla di ingiustizie bisogna diffidare della possibilità di avere una giustizia attraverso il sistema di tribunali denunce tutto questo sistema qui è creato dal sistema stesso è una un braccio è il braccio destro della politica è la sua arteria principale confidare di cambiare la politica attraverso la politica non è possibile confidare di violare la legge attraverso la legge non è fattibile nella gran parte dei casi vi fa spendere migliaia di euro vi fa passare anni davanti a tribunali passaggi da un posto all'altro da un giudice all'altro denunce contro denunce è quello che otterrete alla fine di tutto ciò è pressoché niente è il fumo negli occhi è un po come confidare nella realtà di un social quando voi aprite facebook quando voi aprite twitter quando voi aprite youtube la vostra home page è creata su misura per voi cioè vi fa vedere una minima parte della realtà e questa minima parte della realtà oltre a essere appunto piccola infinitesimale di poche decine di video su centinaia di miliardi di video che c'è youtube pochissimi video che vi fa vedere a voi sono fatti su misura per voi in base ai vostri gusti cioè non potete assolutamente in nessun modo pensare che quella è la realtà che quella è genericamente come come è youtube cioè youtube è quello no quello è ciò che crea youtube per voi ciò che crea facebook per voi ciò che crea twitter per voi in base ai vostri gusti in base alle vostre esigenze economiche sociali è una macchina creata come un hollywood è una grande finzione un grande teatro creato su misura per voi è per questo che funziona tanto bene perché gli algoritmi lo creano in base alle vostre esigenze e non si può assolutamente pensare che quella sia la realtà quella è una percezione deformata fortemente deformata della realtà e questa è esattamente la stessa cosa che succede in una manifestazione sarete insieme a tutta gente che la pensa come voi tutta gente che ha il vostro la vostra base la vostra stessa rabbia la vostra stessa filo conduttori si differenzieranno sicuramente ma in maniera minima però quella non è la realtà quella non è solo la realtà per questo creare la propria realtà invece è profondamente diverso come segnale contro il sistema è non partecipare a facebook non partecipare ai social non partecipare a a qualsiasi cosa che è creata dal sistema ma crearne uno vostro